La trentesima edizione del Bacardi Martini Grand Prix che è il campionato mondiale dedicato ai giovani bartender ed è la competizione per bartender più famosa a livello internazionale sponsorizzata da una società privata per cui è sicuramente una vetrina importantissima per i tanti bartender che vedrete qui alle nostre spalle fare le loro meravigliose creazioni ed è sicuramente un'occasione per loro per allungare il curriculum Questa competizione ha una lunghissima storia, una storia che dura da ben 44 anni Beh, tipo quando tu hai già 10 anni è iniziato Sì, esatto, è iniziato lì Una roba del genere Quindi questa sera esisteremo proprio alla Italian Air World Final i migliori barmen d'Italia e del mondo si confronteranno dareggiando nelle due categorie principali Classic Bartenders e Working Flair Bartenders e l'obiettivo della competizione sarà proprio quello di valutare la competenza professionale dei giovani bar lady e bar man di tutto il mondo chiamati a presentare un cocktail di loro emisione Questo cocktail deve rifarsi il concetto di whenever Whenever, whenever che può voler dire tutto, cosa vuol dire whenever Whenever Guarda il cocktail Whenever 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 Shakira Quando guarda il mondo dei cocktail Whenever Whenever vuol dire che lo puoi gustare, lo puoi godere quando vuoi è in qualsiasi momento del giorno, così è fresco e versatile Quindi come è appunto, come il tuo mohito, no? Sì esatto, cioè per me il concetto di whenever è un concetto che a partire a tutti i cocktail, il masquerismo insomma che non è così Grazie a tutti 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 Grazie a tutti